le parole del santo padre dietro questi personaggi c'è satana seminatore di odio nella donna seminatore di vanità nella ragazza seminatore di corruzione nel re e l'uomo più grande nato da donna finì solo in una cella scura del carcere per il capriccio di una ballerina vanitosa l'odio di una donna diabolica e la corruzione di un re indeciso è un martire che lasciò che la sua vita venisse meno 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 per dare il posto al messia la vita ha valore solo nel donarla nel donarla nell'amore nella verità nel donarla agli altri nella vita quotidiana nella famiglia sempre donarla parole di papa francesco tratte dall'omilia santa marta l'otto febbraio 2019